Blue Devil contro Sacchi, risultato sull'1-1, palla sul fondo, adesso sto riprendendo, il portiere dei Real Sacchi, mette il pallone in avanti, deviato ancora, adesso la situazione di 3 contro 2, vediamo questo contropiede, la punta secca. La palla finisce sul fuoco, non capiscono ancora la regola che il portiere mette pallone dal fondo in gioco, non la capiscono mai, come vogliamo fare? Vuoi battere il portiere ragazzi? Dimongello, sbaglia la sconda di testa, avanti adesso in Blue Devil. Alza questo pallone a cercare il numero 18, il tiro ed il gol, grandissimo gol del numero 18, dei Blue Devil. Il capitano del Blue Devil. Come al solito la metta al contrario, per tutti. Ancora resti Blue Devil ad avanzare, il tiro è ancora attraversa. Un attimo di smarrimento adesso per i Sacchi. Li Mongello, il passaggio, con il dribbling perde però palla, qua Li Mongello, con il tiro, al volo. Ehi! Bravo, bravo! 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 Arriva! Adesso lui deve ricercare la marzella è sempre dalla difesa, sbaglia il passaggio, il capitano la palla però finisce sul fondo, falla in avanti completamente sbagliata, aia, lei qual'è la sua vita sentimentale? Per ora single, non in circa, dopo l'estate forse in circa. Metti l'annuncio sul bric a bracco. Possono bene adesso i sacchi, la palla era uscita. Sbaglia adesso, leghiamo la palla al centro, arriva il difensore, poi è buono il dribbling, avanzano ancora i blue devil, si torna indietro sui suoi passi l'attaccante, palla alta, ci arriva il difensore, sbaglia però il passaggio verso Limongiello, Limongiello sbaglia il passaggio. Palla finisce sul fondo, tiriamo qui una sogra.